Ragazzi venite qua, piccolo piccoli qui si! Bodyguard portate un altro bicchiere sfumante! Figati! Abbuttata di voido io! Scusi capo! Forza mi la giacca, forza, forza mi la zda giacca dai! Scusate ragazzi sei bagnata? No, ti sei bagnata? ma hai mai come chi mi interessa posso la gioca? dove la gioca? scusate eh grazie erano arrivati ah 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 spengola, spengola ah 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 spengola, spengola 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 bravo, bravo è bravo il nostro Yolo scusate che sono domate oltre ad essere giornalista sei anche prestigiatore e sei forte i miei complementi Yolo umano guarda che giochetto c'è un trucco non ti inganno ti sei divertito questa sera alla festa si, c'ero scagliola di more adesso ci segui perchè c'è qualcuno che vuole festeggiare insieme a te io direi quasi che ti vuole fare la festa forse ho sbagliato appartamento che qua ci sono barecchi in questo pannazzo in coppia uomini vai che cosa ti succede? vorrei poco eh micio vi do tutto eh soldi, uomini, donne, quello che volete fare no, l'unica cosa che devi fare è che devi fare silenzio e tu Gio questa pistola la devi puntare a lui e non a me con cautela Gio vai 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 sei successo come disse Zecchere l'uomo timorato d'addio ma che qua spuzzi chi sovi ciò? disse agli altri la vendetta arriverà subito verificativa sugli altri alcimendi non ciò non ciò non ciò il figlio di cane questo bastardo capo 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 eccolo facciamo la con l'uomo timorale capo 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 L'ho fatta convocare qua, per dirle, lo sa che lei viene bene in televisione, eh? Ah, pure lei, grazie mille, lo dicono tutti. Sia fermo con le mani, il gioco dei prestigio lo sappiamo fare tutti. Ma io non capisco. Lei ha vinto il gatto e vince, è vero signor York? Ah, pure lei lo sa, non lo so, infatti, ma le cose si sanno... C'è un piccolo cricocco qua. Una mattina di queste in una riceritoria, anche lei ha voluto provare la prezza del gratte e vince, e così cominciò a grattare. Accanto a lei, c'era una vecchietta, che lasciò in gusto dito il suo tagliato. Lei diede una spirciatina, e vide che era quello vincente da 500 mila euro. Si guarda a sinistra a destra, e con un meraviglioso gioco di prestigio, scambiò i due taglianti, bravo signor York, così fuggì via. Solo che fece due errori, signor York. Prima, la riceritoria in questione è quella mia. Secondo, quella vecchietta è mia madre. Hai capito York? C'è venuto con dati. Sei bravo York? Capo, non sei fottuto, e basta Joe, è una complica situazione così, porca miseria, come dotevo dire? Beh, basta, vado al cane. Vattene fuori, questo. Joe, per favore. Mi stai confondendo, Joe. Gaeta, scusa, ma chi è questo? Questo è io. Io quello. E poi lo chi, scusa, c'è un momento. Quello che ha fregato a sua madre. Ma mia madre ancora cammina. Mi ha detto lei, portacolo. Tu sei preso il gioco di mia madre, gli hai rivelato il gratto e vincita a 500.000 euro. Signor Pino Campesce, signor Pino Campesce. Signor Pino Campesce. Datti una calmata, porco. Dai, dai, stai, vado a farlo stare zitto a chi so, che mi rende nervoso. Signor Pino Campesce. Scusa le mani, cara. E' zitto, Joe, basta. Guarda, Lorenzo, Joe, gli dai fastidio. Quello sta... Che cosa, ma in testa, Pino? Guarda, ma che fate lo porti a questo? Poi poi gli do lo sbaglio a poco. Dai, ciò. Mi deve portare tutti i 500.000 euro qui. Perché sono della mia famiglia. Hai capito? Se no ti do impasto. A mio Kikko. Vai a prendere a Kikko. Buonasera, Kikko Silvestri. Buonasera. Sì. S'orridi. S'orridiamo. S'orridiamo. Va bene, Kikko. Vediamo come posso fare. Ok. Signor Kikko. Signor Kikko. Signor Kikko. Signor Kikko. Signor Kikko. Signor Kikko.